Ciao ciao Battigia, questo è il Funtush Super Videogame, un nuovo e incredibile videogioco che replica un modello virtuale della nostra città, a tre livelli. Riuscire a superarli è estremamente difficile. Allora ditemi, che ne pensate? Vi piace? Che meraviglia, sono certo che mi piacerebbe molto giocarci. Perché hai inserito i modellini di quei ladri? Sono i vostri avversari, come nella vita reale creeranno il caos nel videogame. Quindi voi infine dovete sconfingerli tutti e non sarà semplice. Guarda, ma quelli siamo noi. È logico, se ci sono i modelli dei cattivi nel gioco ci sono anche gli eroi. Ma Koji, tutti i modelli si trovano fuori dal gioco. Ancora per poco. Li teletrasporterò dentro al gioco. Kao, il ladro dallo stomaco in stazia. Gioga a Var, il crimine e il suo mestiere. Darka e Dorky, il terribile duo di Manicolti. JoJo, non devi toccare quei modellini. Potrebbe essere pericoloso. Chacha e Faticia, gli eroni della città. Ehi Koji, dove sei? Oh no! Facci uscire di qui! Chacha, l'unico modo per ritornare qui è superare tutti e tre i livelli e raggiungere l'uscita del gioco. È l'unico modo per tornare nel mondo reale. Altrimenti rimarrete intrappolati lì dentro per sempre. Cosa? E ora come facciamo, Battigia? Non temete, amici. Ho qui tre oggetti per voi. I pattini di Battigia, il cibo di Mimikri e il calcio di Banduchini. Usateli saggiamente nei momenti opportuni. Chacha, noi dobbiamo vincere a tutti i costi. Ehi, guarda, il mio scooter. Bene, almeno non dovremmo camminare in questo videogioco. Ben fatto, Chacha e Battigia! Chacha, vai più veloce! Accidenti, è così difficile evitare i proiettili, raccogliere le monete. Chacha, porta lo scooter a sinistra! Dunca e d'orchi, vi abbiamo seminati! Guarda verso l'alto, non dietro di te! Chacha, alza il sedile dietro lo scooter! Agli ordini, Battigia! Cosa prendiamo, la strada normale o la scorciotoia? Idea! È il momento di usare il primo oggetto, i miei pattini! Chachu, lasciamo qui lo scooter e indossiamo i pattini. Seguimi! Chachu, quando te lo dico io, devi fare un salto all'indietro! Ora! Oh, per favore, dammi dieci bigliettoni! Ho fame! Lui te ne darà un milione! Dunca, sei un idiota! Abbiamo perso! Primo livello completato! Ehi, Battigia! Possiamo raggiungere il livello tre pattinando? Ci arriveremo in un attimo! Chachu! Chachu, non è così facile completare un livello di gioco? Dobbiamo oltrepassare questo burrone! Ben detto, Battigia! Ma ora mi sento decisamente molto stanco! Mi sembra di aver consumato tutte le energie! Hai ragione, Chachu! Anch'io sono stanco! Idea! Perché non utilizziamo il nostro secondo oggetto? Il cibo di Mimicree! Ecco a voi il piatto di Mimicree! Gustate e ricaricatevi! Oh no! Il mangione di Kao viene qua! Chachu, se vogliamo rimanere in gioco, abbiamo bisogno di molta energia! Dobbiamo finire il cibo prima che Kao arrivi, lo rubi e lo mangi tutto! Il mio nome è Kao e ho sempre tanta fame! Non c'è più cibo per me? No! Scappa Battigia! Oh no! Battigia, dobbiamo fare qualcosa! Sprecheremo l'energia che abbiamo acquisito, cercando di scappare da quel mangione di Kao... Idea! Chachu, corri verso il burrone! Ciao ci farà da punte per raggiungere il livello 3! C'è un piccolo genio! Secondo livello completato! Perfetto! Chachu, laggiù si trova il laboratorio di Koji! Se riuscissimo a raggiungerlo... Penso che troveremo un modo per tornare al mondo reale! Evviva! Ma c'è anche Koji nel videogame! Sono sicuro che ci darà una mano! Ma Koji non ha mai indossato gli occhiali rossi! Chachu, fermo! Quello non è Koji, ma Moji! Oh no! Che succede? Battigia, aiutami! Battigia, se riuscirai a combattere contro Giogavari e a sconfiggerlo, sarete liberi! Ma se invece perderai, il vostro destino sarà segnato e sarete condannati a rimanere intrappolati dentro questo videogame! Staremo a vedere! Ma questo è barare! Battigia, è da solo contro tanti Giogavar! È il momento di utilizzare il calcio di... Bandocchini! Accidenti, sono inarrestabili! E la mia energia si sta esaurendo! Un momento! Solo un Giogavar all'ombra! Questo significa che solo uno è quello vero! Devo riuscire a batterlo! Così potrò liberarmi anche di tutti gli altri! È inutile! La vittoria sarà mia, Battigia! No! Non è possibile! Ehi, Battigia! Non mi può succedere niente di brutto con te accanto! Terzo livello completato! Ciao, ciao, Battigia! Ero sicuro che ce l'avreste fatta! Bentornati! Oggi, mio caro, riuscire a vincere contro il tuo videogioco è stato molto difficile! Ma quando hai il tuo fianco, Battigia? Niente sarà impossibile! Battiri, batti! Dammi un cinque! Siamo i più forti! Super duo! Io sono Battigia! E io c'è giù! Grazie! Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti